Esperienze, curiosità e storie di vita vissuta all'insegna dell'etica, della correttezza e dei sani principi dello sport. Questi gli elementi cardine della serata, i campioni si raccontano uno degli eventi collaterali più attesi e partecipati del 25esimo premio internazionale Fair Play Menarini. Oltre allo sport, oltre ai campioni che hanno raggiunto grandi risultati, c'è dietro una storia, una vita che è anche fatta di sacrifici per raggiungere quelli che sono obiettivi importanti. Quindi grazie anche alla crescita di questa manifestazione che vede attraverso l'apertura con i campioni si raccontano, si riesce a comprendere anche quello che è stato il percorso di tante persone che attraverso il sacrificio e attraverso lo sport hanno raggiunto importanti risultati. Presente è anche Hansi Müller che ritirerà il premio speciale intitolato a Paolo Rossi. Non vedevo l'ora di venire in Italia perché non capita così spesso e sono stato molto sorpreso, emozionato e anche contento e orgoglioso di ricevere un premio così importante qua. Questo vuol dire che conta non solo il lato sportivo, anche il lato fuori del campo. Ho l'Italia sempre nel mio cuore fino ad oggi, sono andato via dall'Italia nell'85 e adesso dopo 36 anni mi richiamano e questo mi fa molto piacere. Insomma è ufficialmente partita la maratona del 25esimo premio internazionale Fair Play Menarini. 25 anni sono tanti, sono importanti, 25 anni di storie di sport raccontate, ce ne saranno tanti di bellissime che ci faranno sicuramente emozionare e che ci hanno fatto emozionare. Veramente da partire dagli ori di Mosca del 1980 fino ad arrivare a Tokyo 2020, anche se le Olimpiadi sono state disputate quest'anno e è stata un'Olimpiade poi dei record, quindi avremo modo di parlarne tanto e di rivivere ancora quelle emozioni.